Divieto di avvicinamento alla persona offese a luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Il provvedimento per un sessantenne di Castelbaronia è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dell'uomo presunto responsabile di atti persecutori. L'indagine avviata nel maggio 2021 e conclusasi lo scorso dicembre ha consentito di acquisire indizi a carico del destinatario del provvedimento cautelare in ordine alla sistematica attività di persecuzione perpetrata nei confronti dell'ex moglie 45enne. L'uomo nel tentativo di riappacificarsi con la donna con condotte reiterate, pedinamenti, appostamenti, frequenti telefonati, invidi messaggi, offesi, atteggiamenti intimidatori avrebbe molestato la donna procurandole un perdurante stato d'ansia e di paura fino a farla temere per la propria incolumità. Le condotte persecutorie si sarebbero concretizzate anche attraverso appostamenti presso l'abitazione della donna in diverse ore del giorno e della notte, pedinamenti, ingiuri e offese all'ex moglie e al figlio di lei.